o marone perchè si è grosso ancora di più dall'ultimo video aspettate che non ci stai sto cazzo di telefono ecco stasera cosa fai di bello? stasera vado io dove vai? vado a Zola quindi dov'è che vai? vado a Zola ma in quel posto di merda di sfigati? no, là ci sono delle donne a Zola? ma va là, ma che cazzo c'è a Zola? sono 4 idioti e 4 cretine vabbè dai, poi? eh, vai là, cosa vai a farla? ma, vado a ballare questa è la festa del paese credo di sì, qualcosa, certo si balla e si mangia? sì vai vincito così perché sei grosso così occhiali in testa, ci vai stasera con gli occhiali? stasera se ci vado con gli occhiali non ne esco più perché? perché le donne cominciano già a guardare cominciano a mirare cominciano a... è un casino sì, poi ieri sera ce n'era una sotto casa sì? sì, ma quante cazzo ne hai? troppe vabbè ma stasera, dimmi un programma di stasera io voglio saperli stasera stasera io alle otto e mezza mi vengono a prendere ecco una figa, una figa fino a stasera alle undici e mezza sono via sei via e dopo undici e mezza? arrivo a casa io mi faccio il bidet alle undici e mezza Omar vabbè comunque stasera mi raccomando toccia il fa sentire il biscotti mi lascia grosso Omar c'è? poi anche domani sera sei in pratola? no, domani sera sono a Baigno cosa c'è? dove che sei? a Baigno dov'è? ho passato su Viana io posso via là? eh, devo andare là perché sai ci sono delle fighe c'è altre fighe c'è delle fighe comunque stasera vai a Zola e vai a fare un po' di sgombero Dado, capito? ma io vado là ma delle fighe ce ne ho già abbastanza beh, prossimo poi ti devo vedere anche con un'altra sempre a Zola sempre a Zola va bene te va bene vecchio te fai del tuo mi raccomando sempre in forma poi ci vediamo alla prossima ok, donne non andate giù stesso perché non guarda non mi aspettate neanche sotto casa sì ne ho già dici che vai a Uomini e Donne forse l'hai detto? no fra un po' ci andrà ma questo qua può essere un altro video aspettiamo in anteprima in anteprima fai un anteprima aspettiamo per la prossima volta di dire l'anteprima di Uomini e Donne va bene? perché lì dopo eh, dopo lì è un casino lì è meglio lasciar perdere va bene Omar buona serata vi saluto Donne sì, un bacio un bacio vi saluto ciao ciao Donne